Musica Proseguiamo il nostro carrellato di interviste, adesso abbiamo Michele Melchionda, area manager del Piemonte sempre di 24 Finance, alla sua prima intervista della mia vita, quindi anche un po' emozionato, mettiamola così, Michele oggi sono stati presentati diversi accordi sia con partner immobiliari sia con partner finanziari, come vedi per il prossimo anno questi accordi? Li vedo assolutamente bene, anche perché noi fondamentalmente utilizziamo, lavoriamo insieme alle agenzie immobiliari per fare i muti e per stipulare gli altri prodotti finanziari, quindi le agenzie immobiliari servono a noi come noi serviamo a loro, quindi avere dei rapporti più stretti e più consolidati è certamente utile. Il tuo team è un team che punta molto sulla produttività? Sì, noi abbiamo fatto una scelta di non essere in tantissimi, perché poi fondamentalmente non voglio persone che non producono e che quindi non riescano a guadagnare, noi siamo riusciti a creare nella nostra area un gruppetto di 5 persone me compreso e abbiamo una produzione importante, quindi siamo contenti. Preferisco come ha detto Rino oggi nella sua presentazione, preferiamo, non andiamo a cercare il numero di collaboratori, ma cerchiamo i numeri fatti per bene, con qualità, in modo importante, in modo ben distribuito in tutta la rete. Stato anche presentato un accordo sulla cessione del quinto con MC Finance, anche da qui c'è da tirar fuori qualcosa di buono? C'è da tirar fuori qualcosa di buono, sì, anche perché le cessioni del quinto sono assolutamente strategiche per le aziende del nostro settore, quindi oltre al mondo di mutui le cessioni nel quinto sono un elemento anche di margini, quindi di conseguenza è un comparto che è diverso dal mondo dei mutui, perché di solito chi fa le cessioni non è bravo a fare i mutui e viceversa. Noi diciamo siamo un po' figure ibride, però essenzialmente dobbiamo assolutamente cercare di farne il più possibile e noi ne facciamo anche abbastanza, quindi siamo contenti. Bene, allora ti faccio in bocca al lupo del prossimo anno e ci vedremo alla prossima convento, così vediamo come è andata. Vediamo se le promesse che ha fatto sono del lupo oppure. Esatto. Flavio è stato piacere, grazie.